Benvenuti a Parliamo delle Auto. Quest'oggi parliamo delle auto ibride, come avete visto nel titolo. Perché di questa domanda se le auto ibride sono false? La risposta la vediamo tra poco, subito dopo la sigla. Prima di arrivare a rispondere alla domanda, voglio fare una breve parentesi storica. L'ibrido si può dire che è arrivato nel 1997 con la Prius, è arrivato in commercio, studiato con un prodotto pronto per essere commercializzato nella Prius. In dettaglia penso che sia arrivata verso il 2000, presumo, perché in effetti nel 2000 arriva anche una particolare auto ibrida poco conosciuta che è la Honda Insight. Praticamente erano due posti, un mille a tre cilindri, che aveva uno stile che tagliava l'aria, infatti il suo ECX era davvero ottimo. Quindi ben piantata a terra, un cambio manuale, molto leggera e ibrida. È una vettura che personalmente purtroppo non ho avuto un modo di conoscerla, di provarla, ma sarebbe molto conosciuta. E sinceramente non penso neanche che se ne trovano una marea, perché già al tempo erano vendute molto poche e figurati nel corso degli anni quanto ce ne siano ancora nel mercato in vendita. Perché presumo che chi ne possiede una sia un collezionista o chi ne ha una e ha capito il volo di quella macchina se la tiene sostanzialmente. Insomma, era davvero il concetto di vettura ibrida molto geniale ed era l'ottimo compromesso fra l'utile e il divertente. Quel compromesso che ad oggi è completamente fuori di testa, cioè che abbiamo perso con il nesso, un po' come le auto elettriche. Abbiamo perso prima di tutto con le ibride, che se andiamo a vedere sono arrivate prima le ibride. Ecco, quindi ci troviamo delle auto pesanti, profondamente pesanti, come RAV4, i cugini Lexus, tutte le altre auto ibride che hanno fatto. Insomma, è scoppiata la moda delle ibrido, anche di recente, ormai 4-5-6 anni fa, è scoppiata anche per gli altri costruttori che ne sono Toyota, senza nessun valido motivo. E, peggio ancora, è scoppiata nel costruire delle macchine totalmente pesanti. Ad oggi, quindi, ci sono diverse varianti di ibrido, cioè quella, l'ibrido, quello piccolino, quello, cosa si può dire, che si basa sulla batteria e che si ricarica con le ruote, che è l'ibrido fatto da Toyota, ad esempio, oppure esiste l'ibrido ancora più leggero, quindi il motore non si cammina mai con un motore elettrico, ma c'è solo questa batteria che fa sostanzialmente nel motorino all'avviamento, un po' come ad esempio quello che ha integrato la Panda sulla sua Panda ibrida, infatti, secondo me, quello ha proprio senza senso. E poi c'è il full hybrid, non so come si chiama, non so i nomi, non mi interessa neanche saperli, cioè è quello che è un misto elettrico e un misto ibrido, cioè completamente è una crisi di identità enorme, perché si ricarica la spina e poi ha 50-40 km di autonomia elettrica per camminare solamente elettrico. E' una cagata pazzesca! Allora, abbiamo detto che ci sono queste varie varianti, bisogna anche ricordare delle auto che potevano essere viste anche in quest'ottica, come l'Opera Ampera, che era sostanzialmente un'auto elettrica, che aveva un generator di carica elettrica a benzina, sostanzialmente. E lo stesso concetto ce l'aveva anche la BMW i3, che era elettrica e aveva questo generatore di energia a benzina, sostanzialmente, che caricava mentre andava. Quindi, torniamo al punto, vi faccio una domanda. Che senso ha per voi un'auto ibrida? Io immagino che voi avete dato delle risposte senza trovare un valido motivo alla fine, perché se uno ci ragiona dietro questo tipo di veicolo, capisce che non ha molto senso, soprattutto nelle grandi percorrenze, soprattutto dai SUV pesanti. Dov'è il senso? Infatti le auto ibride hanno una grave crisi di identità e, addirittura, con questa crisi si trascina dietro i problemi delle auto elettriche, perché anche loro ne hanno, e i problemi delle auto normali, delle auto endotermiche. Quindi, banalmente, devi fare i tagliandi e endotermiche normale farli. Con un'auto elettrica magari non si fanno, si fanno dopo tanti chilometri solo per cambiare le pastiglie, banalmente. E sono tremendamente pesanti, che addirittura, rispetto alla versione normale della stessa auto, sono più pesanti. Quindi, perché il peso? Il peso c'è in più per il motore elettrico, per la batteria, che sono delle zavorre. Togliendole, peseranno 30% in meno. Quindi, non giustificano il loro acquisto rispetto a una benzina, perché, alla fine, se si va a ottimizzare l'auto benzina, si raggiungono le stesse prestazioni migliori, sia di consumo, sia di prestazione, realmente, togliendo l'apparato ibrido dalla vettura. Poi, bisogna anche considerare che le auto ibride non danno nulla per scontato, perché per avere la piena efficienza della vettura, dell'auto elettrica, dell'auto... Insomma, per avere la piena efficienza della vettura ibrida, bisogna guidarla in stile ibrido. Quindi, bisogna fare le frenate in un certo modo, col piede leggero, accelerate in un certo modo, col piede leggero, meno formate possibile, bisogna stare a dei limiti ben precisi. Non potete superare i 50 km all'aria, sono scaricate troppo la batteria, e bisogna frenare, appunto, in un certo modo per decaricarla, se no non si carica, e magari dopo avrà dei problemi, siccome a quest'auto non c'è il motorino all'accensione affilata, a tutto, alla batteria elettrica. Insomma, dov'è il senso? Per me non ce n'è molto. Anche se però ci sono dei prodotti che devo considerare validi, alla fine, bisogna ammetterlo. Ad esempio, la toglie a tagliare, se a me come vettura non dispiace molto, perché tutto sommato il senso è piccolo innanzitutto, ed è fatto per muoversi in città. Ok, il prezzo a cui la vendono è un prezzo da folli, non giustifica. Infatti, quel prezzo è dovuto un po', vabbè, al marketing, al marchio, ma anche ai costi che ha in più un'auto ibrida rispetto ad un'auto normale. C'è il costo della batteria, che ha un costo importante, ed è il suo motore elettrico. Ovviamente i SUV ibridi sono delle cavolate pazzesche, un po' come i SUV elettrici, perché usate un'auto pesante con un motore termico depotenziato molto piccolo e non c'è l'ottimizzazione per far spostare quella massa di massa sospesa del veicolo con una zavorra elettrica e un motore depotenziato. Adesso stiamo avvenendo delle cose improponibili, indecenti, come i 1000 su un SUV, e un 1000, addirittura tra cilindri su un SUV, che si deve portare addirittura la zavorra elettrica di una batteria sotto il sedile, il pianale, quel che sia, e un motore elettrico, ok, che magari gli dà un qualche spunto in più, questo motore elettrico, ma se noi togliessimo la parte elettrica, la batteria elettrica, il motore elettrico, tutta la parte elettrica dell'ibrido e mettiamo un motore decente a quattro cilindri e che non sia un 1000 su un SUV, vedrete che la macchina va avanti lo stesso. e ne guadagna perché diventa più leggera. Quindi, la verità è che purtroppo la gente che ha acquistato l'auto ibrida è stata costretta dalle normative, bisogna ammettere, un po' come i taxisti, vi siete banchisti, come mai vi sono tanti taxisti che guidano delle Toyota Prius, o come le Auris, perché dopo ha cambiato nome e è diventata Auris. Perché? Perché molti di questi lavoravano in città e soprattutto c'era una serie di scontistica forte mirata a loro per venderle in tutti i costi, in tutti i modi. e sconti, sia lato di manutenzione, quindi quando si romperanno, perché si romperanno, per fare manutenzione, ma anche come credito d'acquisto iniziale. La vettura, quella particolare di categorie di taxisti, veniva venduta a un prezzo molto inferiore a quella del listino, per venderla, per farsi marketing sostanzialmente e ha contribuito. Però rispetto a una vettura diesel, quello che magari, non si sa, volevano puntare per aggredirla, non sono ancora migliori, non sono ancora più efficienti delle vetture di diesel su lunga percorrenza, quindi il diesel continua ancora ad essere una valida alternativa. Poi io personalmente mi piace il motore diesel, non so spiegarvi però. Poi le auto ibride soffrono anche di un problema, è il problema del mercato dell'usato. Insomma abbiamo visto che il mercato dell'usato sia per l'elettrico, andatevi a vedere il video su questo argomento, anche per le ibride è un po', come si può dire, doppato, un po' strano. E vengono valutate poco queste macchine, poco per il fatto che c'è la batteria che è un'incognita, c'è il motore elettrico che è sempre un'incognita, non si sa quanto può durare. Mentre i motori temono, cioè ormai ci siamo fatti del callo e siamo anche in grado solo visivamente a capire lo stato di usura o quanto potrebbe ancora dare una vettura con quella elettrica è una cosa totalmente incontrollabile. Quindi pensate addirittura che lo stesso concessionario Toyota non accetta veicoli suoi ibridi di 10 anni. Solo appunto per la scusa che l'elettrica non sarà più idonea. Quindi come dicevo appunto soprattutto il pacco batteria. Quindi vetture e la sua auto vengono valutate poco. Un esempio è che la Nissan Lyft verrà di 10 anni, quella primo modello quindi non quella attuale, dopo 10 anni viene valutata solo 1.200 euro dal concessionario. Io parlo sempre del mercato dell'usato, del concessionario e non quello del privato, perché quello di privato viaggia su una strada parallela. Anche se tante volte si incontrano soprattutto su vetture storiche, però comunque in questo caso è mercato quanto azione dal concessionario. Insomma prezzi molto molto bassi, considerando il tipo di vetture che vengono vendute per essere il futuro. Però intanto il mercato dell'usato non riesco neanche a tenerelo. A questo punto quindi se dovete fare questa pazzia di abbandonare una macchina tradizionale, benzina o gasolio che sia, GPL o metano, perché ricordiamo che c'è ancora GPL e metano che sono gran più sensate rispetto al librido. Non state in mezzo con quest'auto che ha una crisi d'identità tra essere una macchina termica normale e una macchina elettrica. O state su una macchina termica o addirittura fate il passo e vi comprate una macchina elettrica. Tanto se dovete fare gli snob su un'auto elettrica e i Vibri, raffatelo su un'auto elettrica completamente. Tanto sapete bene che avete acquistato una macchina che costa un prezzo spropositato che poi se cercate di vendila dopo 6 anni, 10 anni, non verrà valutata quanto l'avete pagata. Anzi, non verrà neanche valutato quel prezzo che varrebbe una macchina termica se a posto di quella elettrica avreste comprato una macchina termica di pare anno sostanzialmente. Poi magari ti puoi trovare con i problemi dovuti a quel tipo di macchina. Insomma, come ho già detto, la mia opinione personale è che su delle auto pesanti non può avere senso. Mentre bisogna sempre guardare la destinazione di uso del mezzo. Se stiamo parlando di un'auto da city car, per utilizzi meno di tot chilometri in un ambito apprezzamento urbano, potrebbe avere senso. Fate sempre delle considerazioni del costo-beneficio della vettura. Quindi, valutata bene la scelta, non prendetela come ho raccolato. Magari ci sono delle vetture usate che vi danno di più di una vettura nuova, ibrida. Con questo vi saluto, vi ringrazio, mettete un più piaccio a quello che volete. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!